Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo ancora qui insieme per questo ciclo di seminario organizzato dall'Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, in particolare della prima sezione Utilizzazione del Suolo e delle Acque, un ciclo di seminari inerente all'idraulica agraria e alle sistemazioni idrauliche delle applicazioni agroambientali. È curato dalla sottoscritta dell'Università di Perugia, dal professor Coppola dell'Università della Basilicata, dal professor Tarolli dell'Università di Padua, ma vede il coinvolgimento di tutte le università italiane in cui si è presente il settore Agr08. Lo scopo di questo ciclo di seminari è di divulgazione scientifica a livello nazionale, possono tuttavia essere utilizzate per l'orientamento degli studenti e si configurano come attività di terza missione che la nostra associazione, ma anche tutti noi appartenenti al settore scientifico-disciplinare Agr08, facciamo a livello nazionale. In lo specifico, i temi toccati dai semiali possono essere ricondotti a tre grandi tematiche generali, tra loro interconnesse. Idrologia del suolo, idraulica agraria e irrigazione, protezione idraulica del territorio e sistemazioni idraulico-forestali. Il relatore di questa sera è la professoressa Flavia Tauro e vi chiedo cortesemente, qui siamo nella piattaforma Zoom Meeting, Zoom Webinar, potete interagire con noi non via video o microfono, ma tramite la pacchetta che trovate nell'interfaccia desktop di Zoom Webinar, esattamente nella sezione dove vedete D e R, domande e risposte o nella versione in inglese Q e A, question and answer. Lì potete porre domande al relatore alla fine della presentazione. I video dei seminari vengono pubblicati nella pagina YouTube dell'Associazione Italiana di Ingegneria Agraria. Lascio la parola alla relatrice e vi ricordo che ha 40-45 minuti di tempo per esporre la sua presentazione, dopodiché ci saranno le domande degli ospiti che spero siano numerose. La reazione di Flavia si intitola, la può proiettare, Flavia scusa ma mi sfugge. Sì, prendo un attimo, ecco, tra un attimo comparirà. Analisi delle immagini per il monitoraggio dei processi idrologici. Ok, grazie mille Francesca. Ah no, scusate, 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 mi mancava un pezzo, scusate, un attimo. Volevo presentare la relatrice, scusatemi, un attimo. Allora, Flavia Tauro è ricercatrice in idraulica agraria e sistemazione idraulico-forestali presso il Dipartimento per l'innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari forestali dell'Università degli Studi della Tuscia. Si è laureata in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso l'Università degli Studi della Sapienza di Roma. Ha conseguito un Master in Engineering in Civil and Environmental Engineering presso il Massachusetts Institute of Technology. Ha il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Idraulica, conseguito ancora presso la Sapienza. Il PhD in Mechanical Engineering presso la New York University. Nel 2013 ha ricevuto un Research Grant dell'American Geophysical Union. Nel 2014, Laurel for Doctoral Thesis in Water Engineering dal gruppo italiano di Idraulica. Nel 2019, Learning Career Scientist Award dell'International Union Geography and Geophysics. Nel 2015 è chair del workshop group Measurements and Observations in the 21st Century dell'International Association of Hydrological Science. Questa sera, come vi dicevo, ci parlerà di analisi delle immagini per il monitoraggio dei processi idraulici. Grazie, prego, a te la parola. Grazie mille Francesca, ci tengo a ringraziare gli organizzatori di questo interessante ciclo di seminari, il professor Coppola, la professoressa Todisco, il professor Tarolli. Ringrazio in particolare anche tutti i partecipanti che hanno deciso di rovinarsi il primo pomeriggio caldo di estate per seguire questa presentazione. Allora, questa presentazione cerca un po' di ripercorrere il percorso che ho effettuato negli ultimi anni, mirato all'introduzione dell'analisi delle immagini, uno strumento che sta sempre prendendo sempre più piede in vari ambiti della ricerca ma soprattutto in ambito idrologico. Quindi vi faccio vedere, vi condivido l'agenda, lo schema della mia presentazione e parlerò un po' dello stato dell'arte attuale, di come funziona il monitoraggio idrologico. Perdonatemi se dovessi dire delle inesattezze, io come obiettivo principale mi sono sempre occupata del monitoraggio del deflusso superficiale. Quindi poi nello specifico parlerò di metodi di osservazione tradizionali e innovativi per questa tipologia di processi idrologici e poi parlerò nello specifico del contributo dell'analisi delle immagini in questo campo. Quindi da dove sono partita io, quindi a che punto l'analisi delle immagini era utilizzata in idrologia e come io e il mio gruppo ovviamente abbiamo cercato di contribuire a questo ambito. Infine accennerò solamente a qualche sviluppo su cui ovviamente stiamo lavorando e che sarà oggetto di futuri studi. Allora vi dicevo, parto un po' dalla situazione attuale, la situazione attuale è che ovviamente c'è bisogno di dati, di dati che sono fondamentali in idrologia per la comprensione del ciclo dell'acqua e di tutti i processi idrologici. Sono interessanti i risultati di un articolo che è stato pubblicato qualche anno fa che seguiva un'iniziativa di Teresa Bloom di somministrare a degli idrologi un questionario in cui si richiedeva quali fossero le necessità più importanti, più urgenti al momento in idrologia. E quello che è emerso è un quadro abbastanza interessante, cioè che siamo ricchi, abbiamo a disposizione degli strumenti modellistici piuttosto avanzati ma c'è una carenza abbastanza importante di dati. Quindi c'è bisogno di nuove tecnologie, di nuovi strumenti, ma soprattutto perché nuovi? perché gli attuali strumenti spesso risultano inefficaci in alcune situazioni che poi vi mostrerò o anche molto costosi e li rende sostanzialmente inapplicabili per il monitoraggio in alcune zone della Terra. Quindi c'è una reale necessità di arricchire le attività sperimentali di monitoraggio in ambito idrologico e tutto questo è diciamo un po' in controtendenza a quello che ci presentano invece i dati ricavabili dai servizi idrometrici nazionali. Ad esempio qui riporto un grafico relativo alle misure di portata in Germania che fa capire se, non so se si vede bene, ma sull'asse delle Y ci sono anni, gli anni e quindi intorno al 1975 si è raggiunto il picco di disponibilità di dati mensili e giornalieri ma dopo il 1975 c'è stata una consistente, una coerente decrescita della disponibilità proprio di stazioni di monitoraggio di portata che quindi ha causato notevoli problemi proprio per la mancanza appunto di serie di dati su cui fare affidamento per le analisi idrologiche. Non solo questo, questo è solamente un esempio, le misure tradizionali e gli strumenti tradizionali che di solito sono costosi, coinvolgono ad esempio la costruzione di stazioni di monitoraggio lungo delle sezioni di un corso d'acqua, richiedono l'elaborazione di una scala di deflusso solamente per fare un esempio e quindi la loro installazione è tipicamente complessa, costosa così come anche il loro mantenimento, il rilevamento della batimetria, intervalli regolari durante ovviamente tutta la vita della stazione di monitoraggio. Nonostante questo abbiamo spesso a che fare con misure che sono limitate a sezioni specifiche ad esempio del corso d'acqua o cheppure possono avere una risoluzione temporale limitata, ad esempio possono effettuare una misura ogni mezz'ora, anche se ovviamente con le tecnologie attuali si sta cercando di superare queste limitazioni. Negli ultimi anni, in particolare dal 2015, come diceva Francesca, io mi sono occupata di dare un nuovo ordine a varie iniziative che erano intraprese singolarmente da parecchi gruppi di ricerca a livello internazionale e che riguardano l'utilizzo di sensori innovativi o semplicemente sensori alternativi e low cost per il monitoraggio delle risorse idriche. Sto parlando in particolare della mia attività all'interno del working group MOXIE, Measurements and Observations in the 21st Century. So che alcuni partecipanti fanno parte di questo gruppo, ma invito tutti quanti ovviamente a dare un'occhiata alla pagina web del working group e eventualmente a partecipare alle iniziative del gruppo. Questo gruppo cerca appunto di coinvolgere, di riunire, di dare un ordine, un'organicità a queste iniziative che hanno come obiettivo l'arricchimento delle misure idrologiche in tutti gli ambiti, ovviamente per tutti i processi idrologici, attraverso strumenti innovativi che siano low cost, principalmente perché questo significa che sono facilmente implementabili in modo numeroso e sulla maggior parte ovviamente del territorio, se sono economicamente sostenibili dalla maggior parte degli stati o dei gruppi di ricerca, che siano, che un altro obiettivo è che si utilizzino anche osservazioni in modo opportunista, ad esempio da sensori che non erano inizialmente pensati per misure idrologiche, ma che comunque possono dare delle informazioni importanti per appunto i processi idrologici e che coinvolgano in prima persona ovviamente anche non solo il ricercatore, ma tutti i cittadini interessati a conoscere meglio l'ambiente ovviamente che li circonda e a migliorare lo stato della conoscenza e tutto quello che ne consegue. Quindi all'interno di Moxi poi ci sono nate altre iniziative, quindi da un sottogruppo diciamo dei partecipanti dei cosiddetti Moxi Friends è nata questa action, questa cost action è molto bella, Armonius, il PI è Salvatore Manfreda che si occupa dell'armonizzazione ad esempio di tutti i dati rilevabili da drone per l'ambito della vegetazione, idrologico eccetera. E quindi queste iniziative ovviamente vanno avanti e cercano appunto di introdurre anche un aspetto multidisciplinare, quindi di unire ricercatori con background molto diversi, di unire le forze appunto nell'avanzamento del monitoraggio. Per quanto mi riguarda vi dicevo invece io mi sono occupata negli ultimi anni di tecniche di monitoraggio alternative per il deflusso superficiale. Quindi qui faccio un esempio, quando parlo di deflusso superficiale parlo essenzialmente di tre tipologie di processi, cioè il deflusso che avviene nel canale fluviale, quindi un canale ben stabilito, un fiume vero e proprio. Il deflusso su versante, quindi il cosiddetto ruscellamento che può avvenire sotto varie forme e su versante in cui non è presente quindi una canalizzazione e che si forma solo in caso appunto di precipitazione o in dipendenza dell'intensità della precipitazione. E poi un ultimo processo di cui ci stiamo occupando recentemente è il monitoraggio del deflusso superficiale a livello di torrente e diciamo parlo però della zona efemerale della rete idrologica all'interno del corso d'acqua. Quindi parlo dei cosiddetti bacini di testata, di basso ordine in cui c'è una canalizzazione ma non è sempre ben definita, non è sempre la stessa, risente della stagionalità. Quindi qual è il punto della situazione su queste tipologie di processi, cioè come avviene il monitoraggio in questi contesti idrologici e ambientali? Esistono moltissimi strumenti cosiddetti classici o tradizionali ma molti di essi si propongono di effettuare delle misure puntuali o lungo la cross section del corso d'acqua stesso oppure con misuratori a ultrasuoni o con dei radar riusciamo ad ottenere una misura che è relativa o a una singola cross section o a un punto all'interno di una cross section. In alternativa esistono ovviamente altre tipologie di sensori, misuratori elettromagnetici ad esempio che nel caso di piccoli corsi d'acqua accessibili possono essere manualmente inseriti nella corrente oppure i misuratori acustici, gli ADCP che però tendono a essere piuttosto costosi e che pure devono essere a contatto diciamo con la corrente quindi c'è bisogno di un inserimento di questo sensore all'interno del corso d'acqua e il coinvolgimento ovviamente di personale tecnico qualificato che deve stare lungo le sponde e gestire ovviamente la misura. Tutto questo diciamo si traduce nel fatto che queste misure ad esempio con misuratori elettromagnetici o ADCP sono piuttosto rare e quindi è difficile che venga fatto un monitoraggio regolare presso gli stessi tratti dei corsi d'acqua oppure si riduce al fatto che abbiamo poche misure localizzate nei punti in cui sono presenti degli strumenti come ad esempio il misuratore a ultrasuoli e questo diciamo che almeno da un punto di vista di ricerca idrologico non ci aiuta nella comprensione complessiva del funzionamento idrologico appunto del bacino. quindi diciamo prima di cominciare di andare nello specifico su come noi abbiamo cercato di risolvere alcuni di questi problemi abbiamo isolato una serie di sfide di criticità che sono poi quelle che con l'analisi delle immagini abbiamo cercato di risolvere. Allora la prima sfida che riguarda appunto il monitoraggio del deflusso superficiale consiste nel fatto che i processi che ho elencato precedentemente avvengono a scale spaziali molto differenti tra loro quindi ad esempio a scala diversante parliamo del cosiddetto RIL quindi di una micro canalizzazione che va da zero a al massimo una decina di centimetri ed è un flusso con un'elevata torbidità in alcuni casi è presente vegetazione quindi è difficile l'identificazione della micro canalizzazione stessa. Dal versante parliamo del torrente e nel torrente invece abbiamo delle velocità delle pendenze più elevate anche la presenza di sedimenti di materiale grossolano piccole profondità ma un fondo piuttosto irregolare riflessioni per la presenza di schiuma che hanno un'influenza abbastanza cruciale come potete immaginare per quanto riguarda l'analisi delle immagini. Ma non ci fermiamo al torrente se aumentiamo la scala parliamo appunto dell'ambiente fluviale in cui abbiamo delle portate molto elevate, presenza di vegetazione spondale anche molto molto grande, abbiamo grandi profondità, grandi sezioni trasversali che quindi sono ambienti radicalmente diversi dall'ambiente del versante e del torrente quindi parliamo di scale spaziali molto diverse ed è difficile identificare un unico strumento un'unica tecnologia che possa andare bene per ciascuno di essi. Un'altra criticità è tipica ovviamente del monitoraggio dei bacini soprattutto dei bacini naturali e che tipicamente abbiamo a che fare con zone remote, zone difficilmente accessibili da operatori quindi se è previsto l'utilizzo di sensori, l'inserimento di sensori nella corrente tutto questo è sempre condizionato all'accessibilità, la possibilità di trasportare i sensori e di rilasciarli nella corrente, nel flusso quindi se le sponde sono accessibili o meno. Ovviamente questo ha anche a che fare con l'accessibilità anche a che fare con il regime idrico, ad esempio in caso di piene quindi c'è la ben nota mancanza di dati dovuta anche al fatto che è rischioso per gli operatori, in generale per il monitoraggio appunto rilasciare sensori e effettuare delle misure che possono compromettere la sicurezza degli operatori e dei sensori stessi. Un'altra sfida che riguarda sempre il deflusso superficiale sono le dinamiche temporali che sono tipicamente piuttosto rapide, in questa slide vedete riportata una piena moderata del tratto urbano del fiume Tevere a Roma e in pochi giorni potete notare nel grafico A che il livello aumenta sensibilmente quindi in un giorno è necessario avere un monitoraggio piuttosto intenso dell'andamento del livello idrico per avere una consapevolezza del comportamento idrologico. Tutto questo ovviamente esacerbato ad esempio nel caso della rete efemerale in cui questi cambiamenti repentini del livello idrico sono piuttosto bruschi e quindi sarebbe necessario una risoluzione temporale anche più fitta di quella permessa diciamo dalla rete nazionale idrometrica. Quindi per rispondere come vi dicevo a queste sfide noi abbiamo cercato di utilizzare abbiamo cercato di introdurre questa tecnica che si basa sull'analisi delle immagini molto molto generale per adesso poi scenderò nel dettaglio di come abbiamo declinato questo approccio per le varie tipologie di osservazione che abbiamo effettuato. In generale diciamo il concetto consiste nell'utilizzare un strumento economico come può essere una telecamera e sappiamo tutti che le telecamere negli ultimi anni hanno subito un miglioramento impressionante e sono disponibili a prezzi sempre più economici. Qualsiasi cellulare ad esempio ne è equipaggiato hanno però delle performance, delle caratteristiche sempre migliori, impressionanti che quindi possono essere sfruttate per migliorare anche il monitoraggio. Quindi vi dicevo il concetto risiede nel fatto di installare una camera, di acquisire delle immagini e di estrarre quante più informazioni possibili dalle immagini stesse. Ovviamente generalmente cerchiamo di concentrarci sulla parte di algoritmi, quindi di spostare la complessità più sull'analisi dell'immagine, sull'estrazione del dato attraverso algoritmi più performanti piuttosto che sulla qualità dell'immagine. Questo vuol dire che a partire anche da immagini di scarsa qualità come nostro obiettivo dovevamo cercare di tirar fuori dei dati significativi. Quindi per rispondere diciamo alle sfide che ho elencato precedentemente vi elenco brevemente quali sono i vantaggi comportati dall'utilizzo di immagini rispetto ovviamente a delle tecnologie più classiche, più tradizionali. Allora uno dei primi vantaggi è che ovviamente si parla di osservazioni non intrusive, non intrusive vuol dire che non dobbiamo rilasciare dei sensori nella corrente. Ovviamente per quanto riguarda alcune delle applicazioni che vedremo, ad esempio l'estrazione del campo di velocità, questo vuole anche dire che noi riusciamo a ottenere una distribuzione del campo superficiale della velocità di un corso d'acqua, che però poi attraverso altre tecniche può essere utile per avere un'informazione complessiva diciamo sulla velocità media e anche sulla portata stessa del corso d'acqua. Quindi sono osservazioni non intrusive che al contrario di tecniche più tradizionali ci danno delle informazioni distribuite spazialmente, quindi semplicemente noi abbiamo delle informazioni distribuite sulla field of view, quindi su una griglia discretizzata in pixel che è sostanzialmente un'immagine. Quindi noi abbiamo a che fare con una matrice che ha le righe e le colonne che corrispondono alla risoluzione dell'immagine, quindi noi siamo liberi di settare ovviamente entro le specifiche dello strumento che utilizziamo e per ogni canale quindi del rosso, del verde e del blu RGB abbiamo a disposizione una matrice le cui celle hanno dei valori di intensità compresi tra 0 e 255. Quindi questo vuol dire che in funzione della risoluzione abbiamo una misura distribuita, quindi non relativa solamente a un punto nello spazio, come può per esempio essere una misura effettuata con un misuratore elettromagnetico. Un altro vantaggio risiede nel fatto che in funzione delle specifiche tecniche della telecamera utilizzata ovviamente possiamo incrementare la risoluzione temporale alla quale acquisiamo le immagini. Quindi se effettuiamo un video, un video a una frequenza base di 30 Hz vuol dire che abbiamo 30 immagini per ogni secondo di video. Ovviamente sappiamo che le telecamere di smartphone più recenti possono arrivare fino a 240 Hz che sono anche eccessivi per i fenomeni idrologici di deflusso superficiale che in particolare ci interessano, però in caso ovviamente di velocità, dei campi di velocità particolari possiamo aggiustare, possiamo regolare questa frequenza di acquisizione per dettagliare in modo più preciso la dinamica, l'andamento temporale del fenomeno. Giocando sulla risoluzione spaziale in particolare ma anche quella temporale è possibile utilizzare la stessa tecnologia, quindi l'acquisizione e analisi delle immagini per fare osservazioni, per effettuare osservazioni a diverse scale spaziali che quindi vanno dal versante al torrente al fiume ed è quello che noi abbiamo fatto e che vi illustro in questa presentazione. Quindi dove ci inseriamo noi? Ovviamente non siamo stati primi ad utilizzare l'analisi delle immagini in idrologia che soprattutto per quanto riguarda le misure di deflusso superficiale comincia intorno al 1997 con il lavoro di Fuggita che sostanzialmente traduce la tecnica, declina la tecnica particle image velocimetri che nasce nei laboratori di fluidodinamica per l'idrologia, quindi nella large scale particle image velocimetri. A partire dalla large scale particle image velocimetri ovviamente dalla sua introduzione vengono effettuati tantissimi studi confronti con approcci numerici, misure con dei setup trasportabili e tantissime, vengono scritti tantissimi articoli che si basano sempre sostanzialmente su questo algoritmo. Dallo stesso gruppo poi viene anche generato diciamo questo altro algoritmo che è la space time image velocimetri che pure sfrutta le differenze di intensità tra le immagini per avere delle informazioni sulla portata fluviale. Sempre l'LSP viene utilizzata in seguito per ricostruire il campo di velocità superficiale fluviale acquisito attraverso delle immagini prese da un aereo, quindi anche questo è qualcosa che ci ha servito e ci ha ispirato anche nel nostro lavoro. Quindi io ho cominciato a lavorare su questo aspetto intorno al 2010, qui vedete un lavoro del 2012 in cui ci siamo posti appunto nel contesto che era stato iniziato da Fuggita e Tal e abbiamo cercato di portare un nuovo contributo che sostanzialmente era quello che vi dicevo, quindi cercare di spostare la complessità più sull'algoritmo piuttosto che acquisire delle belle immagini. In particolare questo lavoro fa riferimento a una tecnica di tracciamento per traccianti ad alta visibilità che vengono però catturati con una frequenza di risoluzione che non è quella ideale in cui il tracciante viene perfettamente isolato e definito ma in cui appare appunto come una scia che deve essere identificata è poi seguita in una serie consecutiva di immagini. Quindi facendo un passo indietro questa era una piccola anticipazione di tutto il percorso che abbiamo fatto e che vi riassumo adesso in queste slide. Noi siamo partiti dall'idea di utilizzare le telecamere in accoppiamento con dei traccianti ad elevata visibilità, in particolare con dei traccianti fluorescenti che quindi se illuminati ad una certa lunghezza d'onda risultano molto brillanti, molto quindi facilmente identificabili in un'immagine perché assumono un colore ben definito. in particolare abbiamo sviluppato in laboratorio una classe di particelle fluorescenti totalmente biocompatibili perché in cera d'api che abbiamo anche caratterizzato da un punto di vista microscopico per andare a vedere dove effettivamente la fluorescenza andava a localizzarsi all'interno della particella e queste particelle fluorescenti erano rilevate dalle immagini, quindi ne veniva catturato il percorso, la traiettoria attraverso un video e questo video veniva analizzato per rilevare il passaggio delle particelle e per ricostruire le traiettorie. Quindi in particolare le tecniche, gli algoritmi che abbiamo sviluppato servivano per ricostruire il tempo impiegato dalle particelle per percorrere uno spazio ovviamente di una determinata estensione e per ricostruirne le traiettorie. E quindi in basso qui vedete delle delle immagini appunto degli algoritmi che abbiamo utilizzato. Più in generale poi abbiamo cercato di limitare l'impiego di traccianti delle particelle fluorescenti perché ovviamente il loro impiego era più difficile in un contesto a grande scala come può essere l'ambiente fluviale. Quindi nell'ambiente fluviale siamo tornati indietro, abbiamo cercato di confrontare, di valutare criticamente vantaggi e svantaggi delle tecniche esistenti che tra un po' vi faccio vedere ed introdurne di nuove per aiutare appunto la ricostruzione del deflusso superficiale. Quindi in particolare come si svolgono le prove e gli esperimenti che effettuiamo per tirar fuori un'informazione sul deflusso in ambito più grande come può essere appunto un ambito fluviale. Acquisiamo come vedete al punto 1 una sequenza di immagini quindi un video, effettuiamo una calibrazione geometrica quindi teniamo conto di eventuali errori introdotti dalle lenti della telecamera. In funzione dell'angolo di inclinazione dell'asse ottico rispetto alla superficie da inquadrare, che nel nostro caso è la superficie libera del fiume, effettuiamo un'ortorettificazione e poi andiamo a associare al pixel un valore metrico, quindi andiamo a calibrare in modo fotometrico il pixel, andiamo a dire quanti centimetri corrispondono nella realtà ad un pixel. Infine abbiamo un'ultima fase in cui andiamo a migliorare l'aspetto delle immagini, in particolare a enfatizzare alcune caratteristiche che possono esserci utili per applicare questi algoritmi che ci danno informazioni essenzialmente sul campo di velocità superficiale e inquadrato appunto nella field of view. Quindi diciamo a valle del miglioramento è possibile effettuare una serie di operazioni in funzione della tipologia di informazioni che vogliamo appunto ottenere sul flusso. Una gran parte del lavoro che abbiamo fatto in passato riguarda l'estrazione appunto vi dicevo del campo di velocità superficiale e in questo senso applichiamo questi algoritmi di velocimetria che nascono con la large scale particle image velocimetry e ai quali poi noi abbiamo cercato di contribuire. Ma un'alternativa è anche quella di semplicemente valutare l'assenza o presenza di traccianti, quindi come abbiamo fatto in passato ad esempio in accoppiamento con le particelle fluorescenti ad esempio per una misura di travel time. Tutto questo segue un'altra tipologia di algoritmi che si basano più sulla segmentazione, quindi sulla divisione in classi di caratteristiche simili all'interno dell'immagine. E infine un'ultima applicazione su cui ci stiamo concentrando adesso riguarda l'estrazione di informazioni sul livello idrico e quindi anche in questo caso cambia la tipologia di algoritmi che riguarda di più la segmentazione e la binarizzazione delle immagini. Però vi dicevo la maggior parte del nostro lavoro si è in passato concentrata sugli algoritmi di velocimetria. Quindi siamo partiti dalla large scale particle image velocimetry introdotta da Fuggita nel 97 e che vi riassumo brevemente. L'LSPIV si basa sull'acquisizione di immagini in sequenza che vengono analizzate a coppie. Qui potete vedere un'immagine 1 e un'immagine 2 che quindi rappresentano degli stati a distanza, a una piccola distanza temporale della stessa area della superficie libera. Ovviamente la differenza temporale dipende dalla frequenza di acquisizione, quindi sarà 1 sulla frequenza di acquisizione della telecamera e quindi dipende dalla telecamera stessa. Allora come funziona l'LSPIV? All'immagine viene sovraimposta questa griglia gialla che potete vedere costituita da varie celle. Ciascuna di queste celle, decidiamo noi ovviamente la dimensione delle celle, rappresenta un pattern di intensità. Quindi se potessi aprire adesso questa cella ad esempio con un software come MATLAB potrei vedere che a questa cella corrisponde una matrice in cui all'interno di ogni casella trovo un valore di tono di grigio. Quindi questo pattern di grigi, di scala di grigi è caratteristico e mi rappresenta le caratteristiche, i dettagli della superficie. Ora alla base dell'LSPIV c'è l'ipotesi che indipendentemente dall'effetto del rumore ottico, dell'illuminazione, questi pattern si muovono quasi rigidamente al di sopra della superficie libera dell'acqua e quindi attraverso una correlazione, una semplice cross-correlazione, è possibile ricostruire lo spostamento che questo pattern ha effettuato dall'immagine 1 all'immagine 2. Quindi come avviene questa cross-correlazione? Si prende la cella identificata ad esempio in celeste nell'immagine 1 e si va a cross-correlare in una regione più ampia che è quella inquadrata nell'immagine 2 sempre con il quadrato celeste. Dove il coefficiente di cross-correlazione ha un valore più alto allora è molto probabile che si sia spostato, che sia la nuova posizione del pattern identificato nell'immagine 1. E quindi è possibile andare ad associare un vettore spostamento che parte dal baricentro della cella nell'immagine 1 e va a finire nel baricentro della cella nell'immagine 2. Quindi questo vettore spostamento poi può diventare un vettore velocità se lo vado a dividere per l'inverso della frequenza della telecamera. Quindi per ogni coppia d'immagine è possibile andare a ricostruire questa mappa di velocità che vedete rappresentata schematicamente in basso a destra in cui in ogni cella c'è una freccia che corrisponde appunto alla velocità associata a quel pattern. Un altro approccio che è piuttosto frequente sempre in fluidodinamica e che anche noi abbiamo applicato alla ricostruzione del campo cinematico superficiale in ambito fluviale è la particle tracking, velocimetri. Allora in questo caso invece cosa succede? Acquisiamo sempre una sequenza di immagini ma andiamo a suddividere la ricostruzione diciamo del campo cinematico in due fasi. Una è un'identificazione, un'identificazione dei traccianti, in questo caso delle particelle che sono disperse anche naturalmente al di sopra della superficie fluviale e la seconda fase invece è il tracciamento. Quindi andare a cercare questa particella identificata nelle immagini successive. Allora questa identificazione avviene come nel caso dell'LSPIV o almeno può avvenire anche con algoritmi di cross-correlazione, ci sono anche altri approcci però l'algoritmo di cross-correlazione è uno tra i più utilizzati. In questo caso allo stesso modo si va a costruire un vettore spostamento che parte dal baricentro della particella e va a finire nel baricentro della nuova posizione della particella. Dividendo anche in questo caso questo vettore spostamento per l'inverso della frequenza di acquisizione della telecamera è possibile ottenere un vettore velocità. Quindi l'output finale se andiamo a vedere in basso a destra non è più quella griglia che avevamo prima come nel caso dell'LSPIV ma sono le traiettorie vere e proprie associate a tutti gli oggetti particellari diciamo di forma tipicamente circolare che sono dispersi e che si muovono sulla superficie del fiume e a ciascuna di queste traiettorie ovviamente è possibile associare per ogni tratto un valore di velocità che viene stimato appunto nel modo che vi dicevo. Quindi questi due sono gli algoritmi più utilizzati per la ricostruzione del campo cinematico LSPIV e PTV. Entrambe presentano dei vantaggi innanzitutto ovviamente dipendono da un'acquisizione remota quindi è possibile ottenere una misura di velocità senza l'inserimento di sensori nella corrente. Nel caso dell'LSPIV in seguito a varie analisi sperimentali che abbiamo effettuato su corsi d'acqua e torrenti di varie tipologie siamo arrivati alla conclusione che era molto importante la distribuzione spaziale dei traccianti stessi e in particolare che questa fosse omogenea in tutta la field of view quindi in tutta l'area inquadrata dalla telecamera e che i traccianti attraversassero in modo continuo quindi in modo stazionario continuamente per tutta la durata dell'acquisizione del video per quanto riguarda la PTV invece ci sono dei requisiti sempre sui traccianti e in particolare in funzione ovviamente dell'algoritmo utilizzato gli algoritmi più semplici funzionano soprattutto se i traccianti sono circolari ben definiti ben visibili con un contrasto molto alto rispetto al resto del background quindi alla superficie libera dell'acqua. Un aspetto piuttosto interessante è come vi dicevo che nel caso dell'LSPIV l'output finale è una mappa in cui abbiamo dei vettori di velocità che arbitrariamente vengono assegnati al paricentro delle celle la cui dimensione è stata imposta da noi ma che poco hanno a che vedere con il passaggio effettivo di oggetti al contrario nella PTV i vettori velocità partono e seguono anche fedelmente la traiettoria di un oggetto fisico che si è spostato all'interno della field of view. In entrambi i casi questi algoritmi sono influenzati negativamente dalle riflessioni solari quindi la presenza di riflessioni che creano dei punti a luminosità piuttosto elevata in regioni sempre le stesse coerenti della field of view possono creare dei problemi alla stima della velocità. Tipicamente quello che abbiamo visto è che nel caso dell'LSPIV la mancanza di almeno 4 oggetti per cella e il fatto che i traccianti debbano essere rilasciati continuamente in modo omogeneo nella field of view influenza molto la stima della velocità che in assenza di una di queste condizioni viene anche severamente sottostimata. Allora a partire da questi algoritmi noi abbiamo cercato di migliorare, di cercare di arrivare a delle stime più accurate di velocità e in particolare abbiamo scelto tra i due algoritmi, tra i due approcci, di seguire l'approccio della particle tracking velocimetri soprattutto perché si lega a qualcosa di tangibile come vi dicevo che è il passaggio di un oggetto fisico nella field of view. Non solo questo perché ovviamente in seguito a varie applicazioni in vari ambienti fluviali o di torrenti abbiamo ottenuto anche delle traiettorie piuttosto rumorose che quindi abbiamo cercato di scartare introducendo una procedura di filtraggio delle traiettorie questa procedura che si basa su minime ipotesi sulla geometria della field of view rispetto al corso d'acqua e sulla direzione del flusso quindi su degli aspetti che ovviamente sono noti a priori al momento in cui ad esempio vado a installare la telecamera utilizzano delle regole molto semplici quindi ad esempio l'inclinazione della traiettoria rispetto all'asse della sezione e la lunghezza della traiettoria stessa per filtrare quindi per eliminare tutte quelle traiettorie che è molto probabile non siano il risultato del passaggio di un tracciante vero e proprio ma sono invece legate ad esempio a riflessioni solari oppure a rumore. Un ulteriore passo che abbiamo fatto in questa direzione è stato quello di abbandonare la necessità di rilasciare il tracciante questo vi dicevo già vi anticipavo era qualcosa di fondamentale soprattutto per permettere le misure in ambito fluviale in cui ad esempio per le grandi dimensioni di questi ambienti è molto difficile eseguire delle misure con dei traccianti e cercare invece di sfruttare qualsiasi caratteristica della superficie libera senza avere un particolare vincolo sulla forma dell'oggetto che si muove appunto sulla superficie da questa necessità appunto di svincolarsi da un tracciante di una ben definita geometria è nato Optical Tracking Velosimetry che è un algoritmo che combina una fase diciamo iniziale di identificazione delle features quindi delle caratteristiche che si trovano che sono proprie della field of view e quindi della superficie libera dell'acqua e questa identificazione avviene attraverso degli algoritmi di machine learning che automaticamente eseguono un auto training sull'immagine stessa e vanno ad identificare dei corners quindi degli oggetti che si differenziano dal background quindi c'è questa prima fase di identificazione che ci permette come potete vedere in questa immagine di trovare migliaia di oggetti anche se nella realtà non ne stiamo rilasciando nessuno quindi sono proprio caratteristiche tipiche della superficie libera e poi abbiamo una seconda fase di tracciamento che avviene invece con la tecnica del flusso ottico di Lucas Canale a questa fase combiniamo poi un filtraggio delle traiettorie meno affidabili con le regole che vi ho esposto nella slide precedente per ottenere quindi per ricostruire tutto il campo di velocità e qui potete vedere in ambito fluviale un'applicazione di OTV in cui sono migliaia le traiettorie che riusciamo a ricostruire e in questo caso ad ogni traiettoria viene associata una velocità che come vedete è maggiore soprattutto in prossimità dell'asse della sezione allora qui vi riporto qualche esempio di applicazione di esperimento che abbiamo effettuato in cui abbiamo testato tutti i vari algoritmi qui in particolare ci trovavamo nel Brenta vicino Trento una sezione piuttosto complessa vedete non è molto profonda ma c'è della vegetazione sul fondo che va a disturbare costantemente le immagini anche notevoli riflessioni e in questo caso ci siamo messi in una situazione molto favorevole a un'applicazione tipo LSPIB quindi abbiamo rilasciato tantissimi traccianti in modo omogeneo e costante per tutta la durata dell'esperimento e abbiamo applicato vari algoritmi qui vi presento i risultati a confronto dell'algoritmo LSPIB e PTV che in questo caso vedete come vi accennavo la PIV tende a sottostimare le velocità proprio perché per quanto possiamo rilasciare in modo continuo i traccianti non riusciamo mai ovviamente a fare in modo che tutte le celle della griglia abbiano la stessa densità mentre la PTV più fedelmente va a configurarsi, a trovare delle traiettorie e delle velocità in accordo con delle misure di riferimento Nel caso di OTV, quindi dell'Optical Tracking Velocimetry abbiamo testato tantissimi algoritmi di identificazione delle features per vedere se effettivamente qualcuno fosse più performante di altri è impressionante il fatto che non solo riusciamo ad avere delle stime di velocità in accordo con le misure di benchmark ma soprattutto riusciamo ad avere tantissime informazioni, tantissime traiettorie per ogni video analizzato e l'esecuzione anche dell'algoritmo è molto più rapido rispetto a LSPAV e PTV Abbiamo fatto delle analisi di questo tipo anche sul Tevere sul Tevere abbiamo installato da diversi anni una delle prime stazioni sperimentali che si basano sull'analisi delle immagini dovrebbe essere la prima in Italia che prevede l'utilizzo di una telecamera che vedete qui nell'immagine sulla sinistra e di due laser questi due laser si trovano a una distanza nota tra loro e servono a calibrare in modo fotometrico da remoto l'immagine quindi sappiamo quant'è la differenza, la distanza tra due pixel quando andiamo a lavorare sulle immagini in questo caso era molto complesso l'esperimento era durante una piena, una piccola piena durante appunto sul Tevere e per la superficie particolarmente specchiata del fiume abbiamo ottenuto dei pessimi risultati devo dire con entrambi gli approcci sia LSPAV sia PTV nel caso di OTV siamo riusciti ad avere risultati leggermente più fedeli ma comunque era una situazione piuttosto complessa complessivamente però messi a confronto queste tre tipologie di algoritmi di velocimetria ovviamente OTV si presentava come il migliore da un punto di vista computazionale e della quantità di informazioni che si riescono ad ottenere proprio in termini di traiettorie ovviamente va considerato anche il fatto che se pensiamo alla necessità di traccianti OTV è il più performante tra i tre in quanto non ha bisogno di traccianti di una ben definita geometria non ha neanche bisogno come l'LSPIV che traccianti vengano rilasciati in modo spazialmente omogeneo nella field of view ovviamente come nel caso degli altri due algoritmi di velocimetria è influenzato negativamente da un'illuminazione avversa in particolare da un effetto specchio che è tipico anche della superficie fluviale ma questi effetti abbiamo visto influenzano in modo minore, in misura minore le stime di velocità nel caso degli effetti dell'illuminazione qui invece vi presento un approccio alternativo a cui avevamo pensato che sfrutta proprio un altro tipo di segnale quali sono le immagini termiche proprio per eliminare questi effetti negativi in particolare qui potete vedere sempre sul Brenta quindi sempre per il video che vi ho fatto vedere precedentemente che cosa succede se andiamo a scattare un'immagine termica in questo caso abbiamo utilizzato come traccianti dei cubetti di ghiaccio e qui potete vedere come è netto il contrasto tra il background e i traccianti stessi in questo caso quindi è quasi immediata l'identificazione del tracciante e poi l'applicazione della PTV che vedete riportata qui in basso allora quindi questa parte vi dettagliava un pochino il lavoro che abbiamo fatto dal punto di vista della velocimetria per rispondere invece alle sfide che vi elencavo precedentemente quindi alle sfide ad esempio dell'inaccessibilità di questi ambienti che previene un'esecuzione e un monitoraggio sistematico abbiamo cercato di rispondere con l'utilizzo dei droni quindi di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto Davia scusa di interrompo siamo arrivati alle 5 ok quindi forse questo potrebbe essere oggetto di un nuovo seminario di un prossimo seminario se è vicino alle conclusioni non sono molto vicino alle conclusioni in realtà allora possiamo rimandare questo argomento a un prossimo seminario perché noi diciamo lascerei un pochino di spazio eventualmente alle domande se puoi fare una chiusura brevissimamente sì volevo vi proietto solamente l'ultima slide delle conclusioni in cui volevo solo dire che adesso ci stiamo orientando verso la miniaturizzazione diciamo di queste telecamere ecco non riesco sì sì vediamo ecco la miniaturizzazione delle telecamere per cercare di arrivare a una telecamera smart che permetta un po' tutte le misure che siamo riusciti su cui abbiamo lavorato quindi non solo misure di velocimetria ma anche misure di livello e misure di assenza o presenza di traccianti ad esempio quindi gli altri due approcci che ho solamente accennato e quindi l'idea sarebbe quella poi di arrivare a una rete che può essere non solo quindi a una miniaturizzazione ma una rete che viene disposta su tutto il bacino ad esempio su un piccolo bacino e che manda direttamente delle informazioni a un centro diciamo di calcolo che poi le elabora e permette di capire in tempo reale la risposta idrologica ovviamente parlando sempre di deflusso superficiale con l'occasione visto che approfitto di due minuti volevo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato su tutte queste cose che ho presentato quindi ovviamente il gruppo di cui faccio parte che è il MECHIDROLAB che è Mechanical Engineering for Hydrology and Water Sciences dell'Università degli Studi della Tuscia il gruppo di Computer Vision dell'Università di Bologna che ci ha aiutato ovviamente tantissimo sull'elaborazione degli algoritmi e poi anche il professor Botter e il suo gruppo all'Università di Padova con cui collaboriamo per il monitoraggio invece della parte efemerale della rete idrologica e ovviamente sono a disposizione se ci sono domande Grazie Flavia è estremamente interessante il tuo seminario e sicuramente avrebbe bisogno di più spazio ma avremo tempo nelle prossime edizioni di questo ciclo di seminari non ci sono domande al momento anzi sollecito i uditori gli spettatori a porre domande io ho una curiosità quali sono i risultati che avete ottenuto se avete mai provato nel caso di eventi cioè durante monitoraggio durante un evento di precipitazione cioè la pioggia disturba molto questo tipo di visure oppure avete esperienze in questo senso Grazie per la domanda abbiamo provato abbiamo provato un po' tutte le condizioni possibili l'avrei fatto vedere abbiamo due video ecco non so se si vedono non so se abbiamo faccio vedere brevemente due video durante una piena sul Tevere si vede anche si vedono un po' di gocce di pioggia ovviamente la qualità dell'immagine peggiora rispetto all'assenza di pioggia però ugualmente siamo riusciti ad avere dei risultati attendibili sempre però con algoritmi di tipo PTV e OTV quindi diciamo in questo caso in condizioni particolarmente avverse la cross-correlazione con il metodo LSP risulta meno efficace e questo vale anche avete ottenuto risultati buoni anche per il monitoraggio appunto della velocità delle shallow water quindi del diffuso superficiale inter-reel diciamo avete provato con allora in realtà devo dire non abbiamo degli esperimenti di misure su reel quindi su versante durante la pioggia mi aspetto che sia davvero molto complessa lì la situazione quindi probabilmente non opterei per un approccio tipo velocimetria ma farei forse una misura di presenza senza di traccianti per avere qualche informazione un po' sulle dinamiche temporali della risposta posso intervenire io un attimo sì no innanzitutto anche io mi complimento insomma un grosso lavoro ovviamente fatto diciamo organizzato molto bene le cose che volevo chiedere erano un po' diciamo più più tecniche nel senso che tu hai parlato più hai detto più volte il campo di velocità capisco diciamo che si possa ricostruire attraverso un'analisi delle immagini sul tirante idrico invece sul tirante idrico ce ne stiamo occupando da poco allora abbiamo sviluppato un piccolo setup molto semplice in cui c'è una barra verticale anzi è un tondino in realtà di piccolo diametro che quindi non va a interferire con la corrente sto parlando ovviamente della rete efemerale quindi piccoli corsi d'acqua piccole sezioni basse profondità e noi abbiamo una telecamera disposta sulla sponda analizzando l'immagine andiamo a quantificare l'altezza dell'acqua rispetto a questo questo riferimento che è questa barra fissa nell'immagine e riusciamo a ricostruire con una frequenza piuttosto elevata l'andamento del tirante e questo alla fine tra le varie opzioni che abbiamo testato nella rete efemerale trasduttori di pressione eccetera purtroppo è stato l'unico approccio che si è dimostrato un minimo efficace perché tutto il resto si interrisce oppure ci sono altri problemi un'altra cosa tu avrai parlato di misure di benchmark cioè sono misure quelle avete misure avete confrontato queste stime che voi avete fatto con delle misure sì abbiamo sempre confrontato misure di velocità in particolare con mulinello oppure con il radar sì cerchiamo sempre di avere una misura ovviamente che sia il più vicina possibile alla velocità superficiale quindi nel caso del radar è proprio la velocità superficiale nel caso del mulinello appena sotto diciamo alla superficie libera senti e poi visto che non ci sono ancora domande diciamo da parte degli altri presenti Francesca se posso prego prego un'altra cosa che mi ero segnato perché la cosa ovviamente è molto interessante quindi mi ha incuriosito ecco in questo senso tu hai parlato dell'esituzione l'esigenza di avere diciamo dei sistemi laser degli sensori laser per poter diciamo così passami il termine raddrizzare l'immagine o comunque come dire individuare diciamo la distanza fra i pixel nell'immagine che tu stai rilevando è molto costoso questo sistema o comunque diciamo in confronto ad un sistema per esempio Doppler che in qualche modo ti consente di avere tutto diciamo quindi di avere distribuzione di velocità e in qualche modo sezione di controllo che tu stai osservando sono confrontabili queste cifre allora è chiaro che il nostro sistema non sarà mai completo come il Doppler perché non riusciamo proprio ad avere delle informazioni come a ricostruire la batimetria non è ovviamente al di fuori delle nostre anche dei nostri obiettivi i laser che abbiamo utilizzato sono dei laser molto economici sono i cosiddetti anche se adesso ovviamente sono vietati laser da stadio che quindi sono diventati illegali ma che hanno solo e sono i puntatori sostanzialmente ci interessa solamente creare un punto luminoso sulla superficie libera che nel caso del Tever è molto facile perché essendo molto torbido appunto la luce non penetra e ci permette anche se lo strumento è fisso di sapere esattamente la distanza quanto vale appunto metricamente il pixel abbiamo installato questo sistema sempre con dei laser molto economici quindi stiamo parlando al di sotto dei 50 euro una cosa così sul drone per verificare quanto l'effetto delle vibrazioni potesse influire quindi se l'immagine si muove così tanto la telecamera si muove così tanto che non ci permette di fare delle misure accurate di velocità ma c'è risultato il contrario nel senso che questo snodo che regge la telecamera nei droni adesso poi sono altamente sofisticati io già sto parlando di risultati di qualche anno permettono di isolare totalmente la telecamera da tutto il frame del drone quindi risente minimamente delle vibrazioni e se il drone viene operato viene fatto volare diciamo stazionando al di sopra dell'area di interesse si riescono a fare delle misure di velocità attendibili poi insomma questo qui è questa procedura è stata adottata anche in altri lavori da altre persone quindi non siamo solo noi che diciamo che si possono fare insomma no ma io non ci mancherebbe non metto in dubbio che si possono fare anzi diciamo a me sembra mi sembra veramente una tecnica soprattutto se i costi sono quelli dei quali stai parlando tu veramente molto con delle grandissime potenzialità quindi perché questi sensori di misura sono effettivamente quelli attualmente esistenti come hai ben detto tu all'inizio insomma hanno il problema del costo cioè poi del fatto che bisogna andare lì fare le misure insomma non è non è banale senti un'ultima cosa riguardava però credo che tu abbia già risposto a proposito quando hai parlato della precipita della pioggia cioè rispetto alla domanda che ti faceva Francesca cioè ovviamente in una situazione in cui ci sia una certa turbolenza diciamo ovviamente queste immagino che questa tecnica diciamo possa entrare un po' in crisi o no sicuramente laddove diminuisce la qualità delle immagini è peggiore ovviamente il risultato però con il filtraggio delle traiettorie noi riusciamo a discriminare tutti i falsi quindi tutto ciò che è relativo alle gocce da ciò che effettivamente si muove e quindi abbiamo ottenuto dei risultati piuttosto promettenti anche nel caso di precipitazione quindi va bene per me va bene insomma ti ringrazio va bene allora non ci sono domande da parte del vittorio quindi siccome sono le diciassette tredici possiamo anche chiudere qui ringraziamo flavia per l'interessante relazione molto molto utile sicuramente ci ha dato molti spunti anche per le nostre misure quindi grazie vi ricordo il seminario della prossima settimana giovedì dieci ore sedici di Ciro Apollo Università della Tuscia soluzioni natural base per la mitigazione dei fenomeni di sesto idrogeologico ringrazio tutti e alla prossima settimana grazie a voi arrivederci a tutti grazie ancora ciao Francesca ciao ciao ciao